3 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 16 15 16 18 18 19 19 19 19 19 Perché non volevo fare guerra Dato che sto salendo di trofei E mi serve l'elisir per fare le truppe Per prendere trofei Ma volevo farvi vedere Adesso vi aggiorniamo L'aggiorno io perché sono più bravo a parlare di te Ma bene, fai vedere la scorsa guerra No, prima di far vedere la scorsa guerra Diciamo, innanzitutto Riposa in pace Satoru Iwata Ma basta E basta A me ci sono rimasto malissimo No, scherziamo su questo poverino Sì, ma Clash non è della Nintendo Quindi Vabbè, però la Nintendo voleva sfondare Sul mercato mobile Quindi c'entra Ok Già non sfonda con le console Che ne sai tu, scusa Non hai una Wii U, non puoi parlare Ho la Wii E che c'entra? Che la Wii U fa cacare Non è vero Ci sono un sacco di giochi belli sulla Wii U Non è vero Comunque, dai, andiamo avanti Minchia, per fare le mura all'otto 500.000 Ma siamo seri? Volevo dire In quest'estate arriveranno video molto speciali Vlog, fuck you time, fuck you time Fottiti male E spiega un po' tu che cosa succederà in questa storia Niente, faremo i coglioni in giro per il paese dove ci troviamo con la GoPro O rispetteremo cose a caso Perché noi abbiamo preso Lui ha preso la GoPro Io ho preso Perché io Ho i big money E comunque Faccio vedere la scorsa war Che mi viene già voglia di Di bugne allarmi allo stomaco Non si esatto No, non voglio parlare I bulgari non si possono La megabula Abbiamo perso 29-25 Regà Con la meta bulgaria C'è solo dei mostri Ci hanno distrutto Anche noi la quella Sì ma guardate Io ho fatto l'attacco da tre stelle E da due stelle C'è qui veramente le due stelle Mi sono partite Madonna in tutti i modi E la masfalt invece è fatto un solo attacco Sì perché già ho detto Non spreco Non spreco Quelli tipo Beh che ha fatto Contro il 6 Non si può vedere Forse sì Però non voglio vederlo Perché l'avevano tentato Di recuperare Ho fatto il 68% È quello che ha fatto il live E E adesso La guerra di oggi Non lo faccio vedere Perché La sto già facendo vedere No abbiamo già fatto vedere Di attacchi No voglio far vedere La guerra di oggi Sì va bene Allora siamo contro Siamo contro anime dannate Italiani Sì Italia Italia Siamo contro anime dannate Ma scelta Però prima Il primo villaggio Che dobbiamo far vedere È di Simone 2006 Simone 2006 Si vede proprio Che ha 9 anni Ragazzi si vede Che secondo me Non è manco 9 Ne ha 8 Da notare La disposizione Molto bella del villaggio Con le torri dello Strigone All'1 E rispettivamente al 2 Io vorrei vedere Le caserme però Le caserme Soprattutto 1 2 E 2 E una 10 Giusto opera per i pecca Per scondare 1 E gli accampamenti Che possono prendere 135 Se non ve ne siete accorti Io municipio all'otto Adesso ditemi Se non è da bestegnargli contro E comunque Io in questa gore In questa gore Non ci sono Perché Come vi ho detto Sono Aspetta L'abbiamo fatto vedere Il castello del clan all'1 Di Simone No Non l'ho fatto vedere Castello del clan all'1 Ah giusto Giusto 10 di spazio Si torna tutto Vi dicevo Sono in scalata Quindi non voglio Sprecare Visire per farmi Per farmi draghi Eh si vabbè Ormai la masfant Va preso il controllo Del mio canale Allora Esatto Domenico Questo pure poter Probabilmente Quello che fa Domenico Domenico Mio fratello Lo vado a dare Un solifero E faccio un bordello Eves sta chiamando Cos'è Quindi se la masfant Butta un branco Di draghi Ignoranti Da sotto Dovrebbe rompere Il volano Romper la difesa Aerea Che tanto non Da problemi Cioè È l'unica Che da problemi Alla fine Poi butta Una furia Qua in mezzo Butta una furia Qua in mezzo Devasta un po' Di roba Tanto non è Neanche anti draghi Quindi Dov'è il municipio La furia Con il draghi Sì Fattene una Sotto E una Da Fai conto Difesa aerea Municipio E la butti giusto In mezzo Così prende Spazio Anche per la difesa Io vorrei aggiungere Che Abbiamo fatto In modo Che abbiamo Scatenato Lavoro Giusto Perché Per esempio Adesso non potete Vedere il mio villaggio Ma fra 22 ore Mi finisce La caserma Al 9 E siccome C'è Ancora Adesso ci sono 23 ore 38 Pratiene Un giorno Alla fine Dei preparativi In guerra Mi troverò Giusto Busto E' una cosa Bella Zlatan 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 Tu mi hai dato Tu mi hai dato i po' Tu mi Sayonara No no aspetta No aspetta Tu mi hai dato I giga Quando ho chiesto Sgherri Aspetta E non si fa Aspetta insieme Sayonara Aspetta 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 Al 3 Lo clicchiamo Aspetta Scrivi Dopo In cop Sayonara Abbiaci in cop Aspetta Aspetta 3 2 1 Ciao Zlatan Ciao Zlatan Cosa fare In un cland Con le joccole Così non passiamo Le giornate Oh che bello E' una soddisfazione Cazzo Così impara A mandarmi Giganti E brutta Merda Ok Ragazzi Eccoci Tornati Mi dai Quei porci di merda E lì devo fare Aspetta Aspetta Devo togliere La guerra sta procedendo malissimo Perché sono delle pippe E noi stiamo ancora pari Stiamo Noi abbiamo fatto un attacco E a uno gli si è tolta la connessione Così a caso Cioè ti devo anche gemmare i porci No Senti Tu Già mi devi dare un drago Sì ma tu non me l'hai chiesto Ma io ti faccio voli Ecco Adesso non mi rompere Mi devo anche rimettere a fare Mongolfiere Vai Oh Quanto è stupido Tu ragazzo Va bene attacco Vai 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 Aspetta 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 Non adesso No non sono pronto Ok vai adesso Devo fare i pipì Ma non l'hai già fatta Vai adesso Che ne sai Non lo so Dai Ok lo sto attaccando No lo sto attaccando Sbagliato Mi sono di più tapp No ok Te sei scemo Due goblin No Due goblin No Buttala la truppa Però Ok c'ha il drago Era poco scontato Come lo schifo Che c'ha che se il drago I due goblin Non si possono vedere Vai vai Accerchialo 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 Gli arcini che se ne vanno Dove cazzo gli pare Dai dai che ce la fa Dai che ce la fa Dai che ce la fa Vabbè sì Inizia a buttare i draghi Tanto ce la fai Buttai i draghi Sì sì calmo Sì ma non domani però Hai due minuti e venti eh Oh Maremma Butta una furia Ah no vabbè sì Va bene lo stesso Sì prendiamo bombe giganti Ottimo I cinghiali sono andati A farsi fattere Yeah Butta una furia Perché se no ti muoiono Tutti male adesso No ci è bloccato No Si è bloccato il telefono No 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 Ok è ripartito È ripartito È ripartito Eh ma distruggete Quella difesa aerea Ok Hai perso già tipo 476 draghi Eh lo so ma Va bene va bene La furia No no queste non sono tre stelle Perché si è aperta Si sono aperte cartelle Io boh Eh sì Dai ancora una furia Ancora una furia Può essere utile Tanto la difesa aerea Ancora non ti bersaglia Ci sono rimasti tre draghi Stiamo scherzando Adesso ti bersaglia No quattro Due sono sovrapposti Eccoli Aspetta non buttare la furia ancora Aspetta appena sono sul municipio Buttala Aspetta eh Non ci Non li prende Stiamo scherziamo Cosa non li prende No Ma do A me va sempre a ritardo No Non li prende Ragazzi io mi sparo In una gamba No Non l'ha presa Ahi no Posso credere Ahi no Posso credere No L'asfalto Mi ha chiuso La chiamata Ahi no Posso credere Vabbè una stella Devo dire che Ragazzi Non è tutta colpa Dei due goblin No Sono sicuro Si è aperta la cartella Della musica Mi ha bloccato Tutto il telefono Già c'è un telefono Che va a due A tre ora ragazzi No E mamma Adesso vediamo Chi è che corre Devo fare per forza Una stella Quando parlo Però abbiamo fatto Tre stelle In tre web Dai ragazzi Ci posso Dai dai Ci sta Ci sta Bordello Allora Scorpio non ha più attacchi Perché ha attaccato il due E ha fatto una stella Bravo Bravo Coglione Moni Ha ancora un attacco Che può utilizzare Sul sei A sto punto No Sul quattro Scusa Buddy Sul quattro Forse Buddy Conviene Così Moni Si fa il due Vabbè Comunque ragazzi Con questa ultima clip Ragazzi Allora Nuovo hashtag Io intanto Prendo per il culo La gente Mi dispiace Caffarezza Tu sei pensando Esatto No Non posso Inputare Caffarezza Van Gogh Fottiti male Perché la canzone Della mica van gogh Quindi van gogh Fottiti male Ogni video C'è Dobbio prendere Fottiti male C'è sempre Comunque ragazzi Ricordate L'hashtag Van Gogh Fottiti male E questa volta Prendo decisione Io Questa volta Vi facciamo Nel video Da giocazione Un po' corto Faccio vedere Anche la fine Della war E il secondo Attacco Perché Non ce la facciamo Con il Con il No No Viene troppo lungo Taccito Eh ma Sarà anche Il mio Il canale No Il mio Il canale Ma cosa Ho detto Salutate YouTube Mi stanno Scrivendo Xero Ok Dove Sulla globale Sì ma sono un tuo fan Mannaggia a me Mannaggia a me Come stai Posso fare una cosa Sì sì Vuoi fare Tu lo che vuoi E però falla Ma le mie donazioni Ma le divento Ma se 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 Aspetta Posso rientrare No Adesso Adesso Ti Adesso Adesso Io ti picchio La pasta Perché sei lì Ti invito Io faccio Il bravo Bingo Accettare No 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 Ti giuro Ero tentato Dal fare Rifiuta Le mie donazioni Le mie donazioni Ciao Ciao Bella Così si conclude Questo video Esatto Comunque Facciamo la conclusione Swag Noi ci vediamo Un prossimo video Spolliciate Iscrivetevi Fate quello che volete Passate da Rama Dategli supporto Anche a lui Poveretto Noi ci vediamo Un prossimo video Ti odio Vangolo Bella